I giovani artisti dell'Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica si sono esibiti domenica 29 novembre al Teatro Donna Fugata. In occasione della dodicesima stagione concertistica Ibla Classica International con la direzione artistica del maestro Giovanni Cultrera, i ragazzi hanno offerto al pubblico un percorso musicale che è spaziato dall'opera alla cinematografia, passando per Beethoven, a Puccini, a Mozart, a Bellini, fino alle musiche di Jesus Christ Superstar e di film come Pirati dei Caraibi. All'orchestra si sono uniti nelle differenti esibizioni soprani Emanuela Sgarlate e Maria Grazia Caruso e il pianista Riccardo Casamichela, brevissimi artisti siciliani che hanno calcato importanti palcoscenici e partecipato a numerose manifestazioni musicali nazionali. L'orchestra, composta da 50 elementi, è nata da un progetto scolastico extracurriculare, previsto dal piano dell'offerta formativa dell'Istituto Verga, che vede come docente responsabile e direttore d'orchestra il professore Mirko Caruso. I componenti sono alunni di tutte le classi del liceo musicale che hanno sostenuto una specifica audizione all'inizio dell'anno scolastico. Un progetto ambizioso nato dalla volontà di tutto il corpo docente di dare agli alunni, in aggiunta alla formazione tecnica e teorica prevista dal piano di studi, anche una formazione orchestrale. Un'importante occasione per i ragazzi che già durante il percorso di studi si mettono alla prova, esprimendo al massimo il loro talento.